Oggi sono qui con la dottoressa Simona Casadei, medico oncologo esperta in nutrizione umana. Ha lavorato in diversi istituti oncologici, fra cui Parigi e Milano. Grazie mille! Grazie a te e salve a tutti! Un consiglio per chi sta facendo la terapia ormonale, quindi chi è ovviamente purtroppo in menopausa indotta e quindi deve far fronte sia alla vampata di calore, famosa vampata di calore che io mi ricordo mi sono trovata in situazioni pessime a fare veramente delle figure devastanti, e come tenersi in linea. Ok, allora io consiglio per i momenti di vampata di tenersi delle compressine di zenzero vitamina C, che ci sono in varie erboristerie, che rinfrescano molto già la cavità orale e riducono un pochino il calore interno. Farsi delle tisane a base di curcuma, anche con la radice, è molto efficace, e volendo si potrebbe pensare di fare dei pasti nei giorni soprattutto più caldi, con delle insalate di cereali, tipo farro integrale con del pesce e dei legumi, senza mangiare degli alimenti troppo caldi, noi dobbiamo ridurre la temperatura interna. Una cosa che può essere utile quando si ha molto appetito e capita, quando si è in menopausa indotta, che ci siano questi momenti un po' anche per l'ansia, un po' per la paura, un po' per la situazione in cui ci si trovano, che ci siano dei momenti di fame un po' morbosa, di frullarsi della frutta, metterla nelle formine dei ghiacciolini e metterla nel congelatore. Poi al momento del fame di dolci, mangiarsi un ghiacciolino che ci rinfresca, ci dà tutti i sali minerali, le vitamine della frutta, e dopo per ridurre l'indice glicemico della frutta, mangiare qualche noce, perché i grassi buoni vegetali della noce riducono l'assorbimento intragastrico del fruttoso, quindi l'indice glicemico della frutta rimane basso e non aumentiamo di peso. Bello, bello, molto bello, effettivamente, per l'estate è favoloso, favoloso. Grazie a tutti.